Roma è una Iena aggressiva ma simpatica, una Iena prima scrittore da oggi, perché? Perché a forza le fa la Iena di raccontare ingiustizie, mala politica, cose brutte e livide ho sentito il bisogno di ossigenarvi, di fare una cosa bella, cioè parlare di amore e raccontare una storia di pura fantasia quindi è stata come una specie di cura rispetto alla fatica quotidiana da Iena Di che cosa parla questo romanzo Boomerang? È la storia di un triangolo amoroso, Leo, Barbara ed Elena, che si mischia in una serie di colpi di scena dove in qualche modo alla fine le cose si aggiustano, nonostante l'effetto Boomerang che capita a ciascuno dei tre protagonisti Ovviamente è una bella soddisfazione per te e che diciamo è soltanto qualcosa che parte perché avrà sicuramente dei grandi obiettivi Filippo Roma Speriamo, dal punto di vista letterario ho già scritto un secondo libro che sono in attesa di pubblicare quindi è una strada che parallelamente a quella di Iena mi piacerebbe intraprendere e seguire Grazie mille, 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 gra